Lega Basket Serie A e Beco Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, presentano Serie A Beco. Naturalmente un miracolo difensivo di Green, che ha rubato una palla impossibile neanche da pensare di poter rubare, ha ingenerato un eccellente lavoro da parte di Efra. In avanti con Jonathan Taylor, per la gualla, un attimo pesa al tiro, poi va in penetrazione a schiacciare, mamma mia, che forza della natura. In attrazione, scarico per Linton Johnson, si fa stoppare. Linton Johnson, attenzione, un secondo, Green ci prova da metà campo e va a bersaglio. Va a bersaglio, anche il tiro da centrocampo da parte di Mike Green. Guarda la spiacciata! E vai! La spiacciata! Che va dentro, anche lei, anche lui! Ancora Cinciarini, quattro secondi trada dal tiro. Attenzione, Tregg, siamo in zona sua. Eeeeh... Nel frattempo, a proposito di ricerca del compagno, arriva la spiacciata di Angelo Gini con la lay-up forzato da Poeta. Non è da fare a Pelino, però è sempre lì, forse pallo, non rilevato. Ramilli dice che non c'è pallo, va, se è sotto canese. Qui perché la volontà è che dall'altro lato, invece, va a schiacciare. Daniel Hackett, ad attaccare il canestro e a schiacciare, travolgendo un cameraman, la forza agonistica di Daniel Hackett. Rimbalza e ritorna nelle mani, Reynolds, palleggio dietro la schiena, la lay-up! Di Jonathan Gibson per Cedric Simons, a completare l'opera. Lega Basket Serie A e Beco Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, hanno presentato Serie A Beco.